Eccoci di nuovo qui per fare un altro video dedicato all'esposizione. L'esposizione in fotografia, l'esposizione nel video, cos'altro c'è da dire sull'esposizione? È già stato detto tutto? Ebbene, non da me e non su questo canale. Bentornati sul mio canale, amici. Oggi faccio seguito a un video che ho già pubblicato un po' di tempo fa in cui vi parlavo dell'esposizione con lo strumento dell'istogramma, uno strumento utilissimo che c'è sui monitor delle nostre fotocamere e videocamere che ci aiuta a definire quella che è la colorimetria, ma soprattutto la luminanza, della ripresa della fotografia, della ripresa video che stiamo facendo. Qualsiasi cosa stiamo inquadrando, l'istogramma ci dà una lettura e, cosa molto importante, è una lettura completa, quindi a differenza della lettura magari del metering spot, del metering con la prevalenza al centro o addirittura con il metering matrix che ci dà la maggior parte dello schermo, l'istogramma è proprio molto fedele perché ci dà la lettura totale di quello che stiamo vedendo sul nostro fotogramma. Quindi se ci fosse anche semplicemente una piccolissima zona di perdita di dettaglio in un angolino minuscolo del nostro frame, verrebbe comunque rilevato dall'istogramma. Ho fatto l'esperimento in questo video precedente in cui provavo a inserire una lucetta in basso proprio in un angolino del frame e immediatamente c'è un picco sull'istogramma che mi segnala che c'è una perdita di dettaglio. Oggi non parliamo di questo, andiamo a vedere piuttosto come si utilizza questo strumento qui. Questo ve l'ho già fatto vedere, ve lo mostro di nuovo. Questo è un color checker che non è di X-Rite, perché io ho un cartoncino, un color checker di X-Rite, ma non è questo. Ho comprato questo cartoncino che è di Data Color, che è un altro brand meno famoso di X-Rite ovviamente, però ha una caratteristica che mi piace moltissimo, ovvero è molto più grande di quello di X-Rite e costa molto meno. Questo che cosa significa ovviamente? Che probabilmente avrà una lettura meno accurata, è possibile che i colori sbiadiscano prima. Quello di X-Rite è molto bello, ha la custodia rigida che si chiude, indistruttibile, lo si può mettere in tasca e non si rompe, è protetto dalla luminosità ambientale, perché appunto si chiude, mentre questo qui ha una busta, però è una busta aperta, quindi la luce entra, per cui i colori tenderanno a sbiadirsi, perché comunque prendendo luce non rimangono uguali nel tempo, tendono a modificarsi e quindi avremo via via una lettura meno precisa. Ma per adesso è pressoché nuovo. Ora, un cartoncino di questo tipo si può utilizzare in due modi distinti. Si può tenere in questo modo, quindi fondamentalmente lo si tiene esattamente dove c'è il piano della ripresa, quindi io sono qui in questo momento, ricevo questa quantità di luce, forse sarebbe più corretto ancora metterlo qua, perché io ricevo la luce qui sulla fronte, dovrei mettermelo qua per essere precisi. In questa maniera io ho esattamente la luminosità che avrei sul viso riportata sopra il mio cartoncino. A questo punto io potrei fare un fermo immagine di questa ripresa e andare con dei plugin dedicati a creare un profilo colore personalizzato per avere il bilanciamento perfetto e questo lo posso fare sia in fotografia sia ovviamente in video. Una cosa però molto più semplice che molto spesso ti salva la giornata è questo, ovvero il cartoncino con il grigio e con le varie tonalità pesate. Quindi noi possiamo avere il nero, possiamo avere il bianco, possiamo avere il grigio. In questo modo nella maggior parte dei software di editing siamo in grado di abbinare il bianco puro, il nero puro e il grigio puro e siamo in grado di conseguenza di risalire a quello che era il colore corretto in camera. Ovviamente tutto questo fa parte del processo di color correction che deve partire già in camera. Per esempio questa ripresa che voi state vedendo io adesso ve la mostro anche a monitor nel momento in cui la sto editando e come potete vedere nel momento in cui io vado a fare la mia selezione sopra questo grigio che è un grigio medio quindi è fatto apposta per ricevere questa luce e per restituirmi la colorimetria corretta quando io vado a selezionarlo col contagoccio come potete vedere l'immagine cambia veramente molto poco perché cambia molto poco perché questa ripresa è fatta con la testa è fatta in maniera ragionata ovvero io ho impostato la mia videocamera su una temperatura colore custom di 5400 kelvin perché l'ho fatto perché sono andato a vedere sul sito del produttore della luce che sto utilizzando che è una luce beauty dish che gli ho montato sopra il beauty dish non è di Godox ma è di Newer quindi costava un po' di meno quindi confesso che ho fatto questo accrocchio perché costava un pochettino di meno ma sono molto contento perché mi dà la luce morbida che vorrei occupando pochissimo spazio quindi molto molto soddisfatto di questa combinazione qual è il punto io vado sul sito del produttore in questo caso sul sito di Godox mi informo su qual è la temperatura colore di questa luce vado a vedere e se ricordo bene magari ho sbagliato però se ricordo bene è la temperatura è 5400 kelvin quindi io vado a impostare 5400 sulla mia videocamera e quindi ho una lettura che già è privilegiata poi è vero che io aggiungo delle luci colorate sullo sfondo perché infatti ho l'azzurro da questa parte e ho l'arancio da quest'altra parte quindi vado a introdurre del colore ma questo colore è alle mie spalle quindi diciamo che non influenza la mia fronte non influenza il mio naso influenza un pochettino l'orecchio il contorno la spalla la sedia da questa parte sì o del blu sulla faccia però la lettura comunque è manuale quindi non viene influenzata da questo blu e quindi il blu è corretto che ci sia perché lo voglio perché ho deciso che lo voglio e quindi mi piace lo voglio mi va a riempire un'ombra guardate cosa succede se lo tolgo capito il concetto è questo quindi questa potrebbe essere comunque un'esposizione corretta io aggiungo questo blu perché mi piace perché lo voglio ma non influenza il mio colore perché il colore rimane costante perché è impostato su una modalità custom e rimane sempre quella perché vi dico tutto questo ve lo dico per aiutarvi a migliorare in quello che è il processo di color correction dei vostri video quindi nel momento in cui fate delle riprese cercate di ragionare già da subito su qual è la temperatura colore corretta da impostare in camera perché non stiamo facendo fotografia quindi non abbiamo la possibilità di gestire tinta e temperatura colore in post produzione o meglio possiamo farlo perché lo strumento ce lo lascia fare ma abbiamo una caduta qualitativa anche abbastanza evidente cosa che non avremmo invece impostandola direttamente in camera impostando direttamente in camera preserviamo tutta la qualità del nostro sensore tutta la qualità della nostra ripresa la qualità della luce che c'è in quel momento la possiamo influenzare con la temperatura colore in camera ma non stiamo andando a perdere niente mentre se lo facciamo in post produzione stiamo perdendo e come inoltre se lo impostiamo correttamente in camera potenzialmente potremmo anche non dover fare più niente perché in questo caso 5400 kelvin di luce 5400 kelvin in camera è già corretta io non faccio la correzione sostanzialmente il giochino con il cartoncino io l'ho fatto le prime volte poi ho visto che cascava sempre giusta che io cliccavo sul grigio e c'era uno scostamento di uno 0 3 per cento tutte le volte allora dico beh 0 3 di qua 0 3 di là non se ne accorge nessuno cioè matematicamente invisibile quindi è irrilevante a quel punto diciamo che io gioco facile perché faccio una ripresa in studio le luci sono pressoché costanti qui dentro è sempre tutto grosso modo uguale ma anche se stiamo facendo una ripresa in un ambiente che non conosciamo se siamo in esterni comunque proviamo a guardare la scena e proviamo a impostare la temperatura colore corretta che abbiamo di fronte se facciamo fatica a farlo possiamo comunque servirci di cartoncini color checker ausili che ci possono aiutare sia a fare il colore in quel momento sia dopo in post produzione a leggere meglio la scena con tutti quanti gli strumenti di analisi di cui ho già parlato in un video che vi lascio in card e ci aiutano anche a correggere eventuali imperfezioni ora tenete conto una cosa ve lo dico fuori dai denti la ripresa perfetta non esiste ma non esiste nella maniera più assoluta magari qualche cineasta qualche direttore della fotografia mi smentirà probabilmente esistono dei metodi estremamente professionali per fare la ripresa esattamente come la volevi proprio senza il minimo scarto senza la minima possibilità di errore è possibile però allora io mi domando una cosa che ci sta a fare lì il colorist come mai c'è un team di persone che si occupano di ricolorare le riprese diciamo che la ripresa perfetta secondo me non esiste cioè ci si avvicina si fa una ripresa pensata in maniera tale che dopo in post produzione io so che se faccio la ripresa in quella maniera lì poi in post produzione riesco a tirare fuori quel colore là per esempio io adesso sto girando in log la mia ripresa così com'è nativamente fa schifo ve l'assicuro è tutta grigia quindi io vado poi a colorarla come voglio e infatti se guardate i miei video con continuità vi rendete conto ci sono differenze di colore e di saturazione e di luminanza tra un video e l'altro perché io ci gioco fondamentalmente c'è il giorno che mi piace così il giorno dopo voglio sperimentare perché voglio vedere quali sono i limiti della mia strumentazione della mia camera del mio file d'uscita del mio software e quindi modifico sempre delle cose anche a seconda del momento della giornata in cui edito perché magari che se il mio monitor è profilato magari ho la luce diversa perché lo so monitor profilato però se apro la finestra non vale più quindi a seconda del momento in cui edito e ci possono essere delle differenze d'altronde questo è un ufficio non è un vero e proprio studio televisivo quindi non ho tutto in bolla per fare questo tipo di lavori e possono esserci delle differenze io gioco anche su questa cosa per cercare di volta in volta di sperimentare in direzioni diverse anche per scoprire quale mi piace di più invito anche voi a sperimentare ovviamente a non fossilizzarvi non lavorate con i preset non prendetevi una cosa che sia sempre uguale sempre quella perché quella è la morte della creatività quindi usate questi strumenti usate il color checker usate il cartoncino del grigio per avere idea di quello che state facendo per sapere dove vi state muovendo però poi muovetevi in libertà spaziate fate esperimenti sbagliate rendetevi conto che avete fatto una porcata e fatela da capo oppure rendetevi conto che avete fatto una figata pazzesca e non sapete come l'avevate fatta e allora dovete provare a rifarla e tutto questo è divertentissimo e vi porta via via a migliorare le vostre conoscenze del vostro mezzo e dell'ambiente in cui stiamo lavorando e insomma vi porta in fin dei conti a essere degli osservatori migliori oltre che dei migliori filmmaker signori con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video